sotto casa la macchina che ha preso a fuoco ma quella mi sa che è già scoppiata però ma chi mi dice io non credo eh no mi sa che oddio sì vero forse è solo il davanti beh avranno chiamato c'è l'autobus fermo lì ma che stai a riprendi? ecco ecco da un'altra parte mi sa che qualcuno ha doperato l'estintore forse perché vedo ecco ecco anzi pure piccolo ma il fuoco c'è ancora? no era proprio non è proprio l'autobus ma perchè stanno in stalla azzurro e non mi ha fatto un giallo non lo so io ci sono dentro l'autobus ma chi mi si dice? papà ma l'hanno già chiamato quest'ora c'è una borsa dentro ah scusa